Sono rimasti in silenzio davanti al giudice i due imprenditori accusati di riciclaggio transnazionale nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. I due orafi sono finiti in manette in seguito ad un'operazione della Guardia di Finanza Retina. Gli imprenditori, una retina e un franco algerino rispettivamente di 51 e 59 anni, sono stati scoperti dalle fiamme gialle lo scorso sabato pomeriggio a San Zeno mentre stavano effettuando uno scambio tra contatti 520 mila euro e 14 chili di prodotti in gioielleria e in oro. Il PM Marco Dioni ha chiesto per loro la custodia cautelare in carcere. Il GIP Giampiero Borraccia dovrà esprimersi entro mercoledì sulle misure cautelari. Lo scorso fine settimana, inoltre, in un'altra operazione a Civitella in Valdichiani, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria hanno sorpreso un altro scambio oro a fronte di contanti. Sono stati sequestrati 13 kg di oro in lamine, prive di punzonatura in ordine all'origine e alla provenienza, in cambio di 530 mila euro. Il soggetto a retino, in questo caso, comprava l'oro. I due imprenditori, uno di Arezzo e l'altro di Valenza, sono stati denunciati per riciclaggio. Nel corso delle due operazioni sono stati recuperati in tutto 29 chili d'oro e oltre un milione di euro. Il nostro alert nei loro confronti è scattato nel momento in cui avevamo preso, tramite un'attività di analisi, i loro precedenti fiscali e tributari che li ponevano, diciamo, in particolare attenzione sia nei confronti del fisco che nei confronti della giustizia. Motivo per il quale nei loro confronti sono state avviate attività di pedinamenti e appostamenti che poi sono andate avanti per molti mesi fino a quando siamo riusciti poi a trovare il momento giusto per intervenire. Proseguono intanto le indagini coordinate dal PM Marco Dioni. I finanziari inoltre continuano ad indagare circa la provenienza del metallo prezioso e la sua destinazione. Nel momento siamo in contatto sia con i colleghi del Nord Italia che cerchiamo di staurare anche una collaborazione con l'estero al fine di individuare canali di approvvigionamento e di destinazione di tutta la merce.